E da lì praticamente iniziò tutta una fortuna che poi per me è passata sempre in collaborazione con Marcello, io ho collaborato anche con Emilio Gatto, con Frassica, insomma con tanti altri personaggi, però con Marcello da tanti tanti anni e quindi sono stato trascinato per fortuna da lui in altre occasioni più importanti, Lozo di 105, alcune sitcom, alcuni video per la RAI, i programmi tatami, ma anche No della 7, i film, i lungometraggi.